Buongiorno, sono Manuel Carrion e voglio augurarvi una domenica fantastica. In questa giornata numero 225 di questo anno, e mancano 140 giorni perché finiscano l'anno, è una giornata stupenda qua a Venezia e voglio condividere con voi questa energia fantastica. Il titolo di questa giornata l'ho chiamata Il Corpo Armonico, che lo potete trovare sempre nella poesia del giorno, nella mia pagina Facebook. E che significa Il Corpo Armonico? Il Corpo Armonico è quella capacità di amarsi e volersi bene così come siamo. Amare le nostre perfezioni ma anche le nostre imperfezioni. Iniziare con una carezza, con un bacio a se stessi. Se noi vogliamo amare gli altri, prima dobbiamo amare noi stessi. Una cosa a cui voglio menzionarvi è che oggi la Galleria Il Redentore, l'unico giorno di apertura della Galleria, è la domenica dalle 16.16 alle 20.00. Di qui incontreremo, questo pomeriggio, varie persone che verranno a farci visita, alcune persone che hanno preso i Portraits of the Day verranno a ritirarli questo pomeriggio. A pranzo invece avrò due persone molto speciali, sono i Casanova Angels, Chiara Gatta e Graziella Giusto, che verranno per fare un incontro, un meeting, perché loro verranno a esporre nel Festival delle Arti. E questo mi rende molto orgoglioso, perché piano piano ho conosciuto delle persone che hanno avuto un'evoluzione personale e spirituale anche nella carriera e mi fa un sacco piacere poter imparare e condividere anche con loro le nostre esperienze di vita. Vi voglio augurare una bellissima giornata e ricordatevi di dire il buongiorno a tutti. Buona giornata e buongiorno!